E' un lunghissimo serpentone colorato e dal sapore retro quello che ha attraversato la città di Arezzo. Circa 400 gli appassionati di bici d'epoca che si sono ritrovati in Piazza Grande per la partenza dell'edizione 2023 dell'Ardita, baciata quest'anno dal sole e dal clima primaverile. La regione è presente e ritiene l'Ardita una delle manifestazioni più importanti sotto questo punto di vista. La ciclo storica dell'Alpe di Poti è un valore da tutelare anche dal punto di vista della regione. Noi ci crediamo, abbiamo messo il nostro patrocinio proprio perché riteniamo che sia un'iniziativa meritevole. A precedere il via l'esibizione degli sbandieratori della giostra del Saracino. Piazza Grande è una bellissima cornice già di per sé ma con questi tanti atleti che si sono ritrovati stamattina qua da molti parti d'Italia devo dire, c'era veramente un colpo d'occhio eccezionale. Tre come sempre i percorsi proposti dagli organizzatori, il gourmet pensato per tutti, il classico e l'Ardita, con la sfida all'Alpe di Poti lungo la salita dedicata a Marco Pantani e già Gran Premio della Montagna del Giro d'Italia 2016. Siamo riusciti a creare questo percorso permanente dell'Ardita che valorizza il territorio, le strade bianche che abbiamo, le strade minori, la città, anche i borghi vicino e questo piace e fa bene anche al turismo della città. Grazie.